importanza, usa questi nove modi per farli ingelosire, sentirà di morire per te. Allora, se un uomo non ti dà importanza, se un uomo ti dà per scontata, se un uomo pensa che tanto schiocca le dita e tu come una cagnetta scodinzolante arriverai da lui, puoi usare questi nove sistemi, questi nove modi per farli ingelosire, per creare dentro di lui l'esigenza di essere disponibile nei tuoi confronti. Se tu userai questi sistemi, lui si sentirà attratto da te, si sentirà interessato a te, non potrà fare a meno di desiderarti, non potrà fare a meno di desiderare di compiacerti, non potrà fare a meno di amarti, tra virgolette. Come puoi fare questo? Quali sono i sistemi? Quali sono questi nove modi per riuscire a fare ingelosire un uomo, per riuscire a coinvolgerlo, per riuscire a, diciamo, a far sì che inizi a darti importanza? Beh, la prima cosa fondamentale è che devi imparare a essere disinvolta, essere attiva. Essere disinvolta cosa vuol dire? Vuol dire essere attiva, sempre attiva, attraverso degli hobby, dei passatempi, degli impegni, interagire con altre persone, con tante persone, inclusi di uomini, uscire con più persone e presenziare il più possibile in modo tale che, diciamo, altre persone abbiano interesse nei tuoi confronti. E non dare a quest'uomo la priorità, non dare a quest'uomo la priorità, perché se tu gli dai la priorità rischierai di, diciamo, dare troppa tranquillità. La seduzione necessita di tensioni, la seduzione necessita di tensione emozionale. Soltanto se darai tensione emozionale riuscirai a conquistare nel modo giusto, riuscirai a fare ingelosire nel modo giusto e questo è un punto fondamentale. Non deve assolutamente perdere, diciamo, non deve assolutamente dimostrare di essere sempre lì pronta ad aspettare che la persona sia lì disponibile, non deve dimostrarti sempre disponibile, perché se ti dimostri sempre disponibile otterrai poche, avrai poche possibilità. Un'altra tattica è quella di utilizzare delle battute pungenti. Fai qualche battuta, velatamente fagli trapelare, che potrebbero esserci altri uomini, che, diciamo, farai delle esperienze senza di lui. Non scadere nella banalità, ma attraverso il coca e infanni puoi dargli delle stimolazioni, puoi dargli delle stimolazioni e queste stimolazioni, diciamo, che in qualche modo lo faranno restare un po', diciamo, dubbioso. L'ironia è un'arma molto potente. Ad esempio, fatti vedere, ad esempio, online, spesso su WhatsApp, non rispondere subito ai suoi messaggi. Ecco, queste sono tutte cose che, in qualche modo, lo destabilizzano un pochettino e funzionano molto bene. Poi, un'altra cosa è renditi bella, sexy, sensuale, femminile. Cura al meglio il tuo look. Diciamo, la femminilità è molto importante. Quindi cerca di essere molto più femminile, soprattutto quando esci senza di lui. Uno dice, no, quando esci con lui. No, quando esci senza di lui, anche senza di lui. Deve vederti andare a lavoro in tiro, attacchi autoreggenti, insomma, tutta in tiro. E questo, diciamo, insospettirà, farà venire, insomma, un po' di dubbi fondamentalmente. Ed è molto importante questo, insomma, per creare i giusti dubbi. E poi, tieni presente il quarto punto, utilizza un linguaggio non verbale seduttivo. Anche con gli altri uomini sorridi quando interagisce, ad esempio, anche in sua presenza con altri uomini. Sei sorridente, toccati le labbra, accarezzati i capelli. In modo tale che, insomma, lui inizierà a sentire che non è che tu sei lì pronta, disponibile, a, diciamo, accedere, come dire, a tutte le sue, a tutte le sue avance. Questo è un altro punto che devi tenere presente, un altro punto fondamentale, che è veramente molto importante per coinvolgere, per, diciamo, tenerlo in sospeso, perché queste sono tutte strategie che servono poi di fatto a tenerlo in sospeso. Un'altra tattica, quindi, diciamo, il quinto punto è quello di creare mistero. Cioè, creare mistero vuol dire che non deve sapere esattamente quello che fai, quello che non fai. Creare un'alone di mistero è molto importante. Sesto punto, inizia a flertare. Cioè, a flertare, diciamo, anche nel web, con altre persone. Insomma, inizia ad approcciarti anche qualche flirt, diciamo, come possiamo dire, innocuo, ma createlo, perché ti dà una sicurezza migliore. E poi, settimo punto, cura molti i tuoi social, perché se tu oggi i social sono fondamentali, ti crei dei social di valore, in cui tu vieni rappresentata come una donna di valore, attirerai sicuramente persone giuste, attirerai sicuramente persone che in qualche modo si coinvolgeranno e quindi tutto creerà degli antagonisti interessanti. Quindi è molto importante. Questo è veramente molto importante per conquistare, fondamentalmente. Questo devo dire che è molto importante. Un'altra cosa fondamentale che ti suggerisco di fare, se vuoi conquistare, diciamo, se vuoi sedurre un uomo, se vuoi fare in gelosia un uomo, è quello di, diciamo, come ottavo punto, usare il cellulare. Ad esempio, tenere il cellulare spento ogni tanto. Soprattutto, magari anche un giorno o un aggiornato, qualche ora, quando tu esci fuori, fatti trovare un raggiungibile. Questo incrementerà ancora di più i dubbi. E' molto importante. E poi, diciamo che ogni tanto cita così, an passando, come non appunto, qualche tuo collega, qualche parla di altri uomini. Ma senza dire, ah, questo lo voglio, questo no. Parla semplicemente di altri uomini, magari un collega racconta qualcosa, insomma, in modo tale che lui inizierà a innescare meccanismi proiettivi. Ecco, questi sono i sistemi migliori. Vedrai che inizierà a valorizzarti molto di più, perché si innescheranno tutta una serie di strumenti, di tattiche, di preselezione, che ti faranno percepire come molto più intriganti e interessanti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like. Iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.